Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. Il noto giornalista Beppe Convertini ha recentemente condiviso con i suoi fan un evento tragico che ha sconvolto la sua vita. In una situazione in cui si trovava in sella la sua moto, una macchina gli ha improvvisamente tagliato la strada, causando un incidente che ha avuto gravi conseguenze per il suo volto. Tuttavia, grazie all'intervento tempestivo del personale del San Filippo Neri di Roma, il naso e l'occhio di Beppe sono stati ripristinati al loro posto originale. Attraverso un post sui social media, accompagnato da foto scattate direttamente dal suo letto d'ospedale, Beppe Convertini ha voluto raccontare ai suoi fan i dettagli dell'incidente e le successive cure mediche affrontate. Nonostante la sua faccia gravemente ferita, con un occhio nero e il naso rotto, Beppe ha continuato a lavorare durante le due settimane successive, guidato dal senso del dovere inculcato gli dalla sua famiglia e dalla sua amata Puglia. Ha sottolineato i valori tradizionali della famiglia, del lavoro e del rispetto che gli sono stati trasmessi, dimostrando il suo impegno costante nel mondo dello spettacolo. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video.